L'allarme Baby Gang, firmata una convenzione per il reinserimento sociale e la rieducazione per i giovani che hanno commesso un reato. Ci spiega tutto Luigi Carbone. In tempi di grande allarme per la violenza delle bande di giovani criminali, Tribunale dei Minori, Centro di Giustizia Minorile della Campania e Università di Salerno hanno iniziato una collaborazione per il reinserimento sociale e la rieducazione dei minorenni che hanno commesso un reato e dei giovani dell'area penale esterna per cui il giudice ha stabilito la sostenzione del processo e la messa alla prova. La convenzione, firmata a Fisciano, avvia uno specifico programma di recupero dei ragazzi. Creare attività di formazione, di informazione, stimolare l'autoimprenditorialità utilizzando i diversi dipartimenti universitari e utilizzando le professionalità che qui ci sono. Al termine del periodo di prova, se il ragazzo avrà dimostrato di aver realizzato il progetto, di aver seguito le prescrizioni che gli sono state date al momento della sospensione e tutto quanto, il reato viene dichiarato estinto. È un momento di crescita e di consapevolezza di quello che ha fatto, ma anche per fondare le basi, per una prospettiva di un riscatto della propria dignità. Intanto nel campus è diventata operativa la sede dell'osservatorio multidisciplinare per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, nato in sinergia con la Direzione Nazionale Antimafia. Uno strumento per intercettare le attività terroristiche e il proselitismo criminale sui siti internet e nel deep web a supporto delle indagini della DNA, come hanno spiegato il presidente dell'osservatorio Franco Roberti e il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao.